La scorsa serata, personale delle volanti è stato inviato presso il campo nomadi di via Crocifisso a Catania, nella zona di San Cristoforo, a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna, la quale ha poi riferito agli agenti di avere avuto una lite molto accesa con il proprio compagno, anche egli rumeno. A causa della lite, l'uomo era andato in escandescenza e l'aveva colpita con diversi pugni al capo. Non pago, di quanto fatto, lo stesso l'aveva minacciata di morte con un coltello. La donna, impaurita per quanto subito, era riuscita a scappare e una volta messasi al sicuro aveva chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti hanno subito individuato l'autore delle violenze e una volta bloccato lo hanno accompagnato in questura per gli ulteriori accertamenti. Dalla denuncia resa dalla donna, i poliziotti hanno appreso che già in passato la stessa era stata vittima di altre aggressioni e minacce, episodi che aveva già provveduto a denunciare all'epoca dei fatti. Una volta ricostruita la dinamica di quanto accaduto e circostanziato il contesto generale delle violenze subite dalla donna, l'uomo è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate e associato presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida innanzi al GIP.